Adesso che c'è l'ufficialità, a quel punto là zitti e mutti e si corre su Peghin e dopo se ne trarranno, vedremo quali sono i risultati. Ma c'è stata l'ufficialità a posteriori, ma in quel momento là non c'era assolutamente l'ufficialità di Peghin. Una brutta copia di Giordani era questo il giudizio espresso su Francesco Peghin da Marcello Bano, che dai nostri microfoni fa un passo indietro, rientra nei ranghi e si dice pronto a correre a fianco dell'imprenditore candidato al sindaco di Padova. Ha rischiato molto in queste settimane il leghista DOC, sindaco di Noventa Padovana, che spiega di non avere nessun provvedimento dal partito, ma in cui caso era pronto a finire sul tavolo del Consiglio federale del Carroccio. Se il sostegno a Peghin, adesso che è ufficialmente candidato, c'è, Bano non frena però le critiche sul metodo usato dal suo partito nella scelta di questo candidato. Io non ho mai visto una cosa del genere. Di solito avvengono delle proposte, avvengono delle discussioni, dopo ci sono i vari tavoli provinciali, regionali, nazionali che fanno una sintesi, ma quantomeno se ne discute. Questo è l'ABC, da quando sono entrato in Lega, sono 12 anni che sono in Lega, le proposte vengono fatte dalle sezioni, dalle circoscrizioni e dai provinciali. Se la Lega annuncia una conferenza stampa nei prossimi giorni per rendere pubblico sostegno alla candidatura di Francesco Peghin, chi chiede un programma all'imprenditore è Fratelli d'Italia, che all'alleato Lega fa pesare anche quanto accaduto a Montecitorio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia non è una compagine individuale, è un partito politico e naturalmente deve rendere conto soprattutto non solo ai propri elettori, ma anche naturalmente alla sua base, nella quale in settimana noi avviveremo un dibattito serrato. Noi non guardiamo e non proviamo veti e non guardiamo solamente alla persona, perché a Padova non si vince esclusivamente con il personaggio. Io sinceramente apprezzo e stimo dal punto di vista personale Francesco Peghin, ma credo che in questo momento ci siano pochi elementi per poter dire, almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, un sì incondizionato alla sua candidatura come candidatura del centrodestra. Grazie. Grazie. Grazie.